Da quel giorno decisi di non tenere più acceso il cellulare la sera prima della partita. Perché non apri un profilo social Instagram? Dai! Tu lo sai, perché è un lavoro. PSG, Milan, Dortmund, Newcastle. Uno che va allo stadio ha il diritto di fischiare, questo ho sempre pensato. Paga il biglietto, come a teatro.